Sono Vittorio Spano, il Presidente della Banda Musicale Pugliese e sono contento di vedere un pubblico così caloroso ad assistere a questo spettacolo. Gli allievi che vedete esibirsi stasera hanno frequentato quest'anno i nostri tre corsi di musica in parallelo. Abbiamo il corso avanzato iniziato nel gennaio 2015, il corso intermedio avviato nel 2016 e il corso base partito l'anno scorso. Fin dalla fondazione della nostra banda musicale nel 1988 abbiamo sempre svolto dei corsi di musica con l'obiettivo di inserire nell'organico della banda nuovi musicisti. Negli ultimi anni abbiamo arricchito il corso di musica con un saggio di fine anno grazie al quale gli allievi hanno la possibilità di mostrare i risultati raggiunti e di provare l'emozione di suonare di fronte a un pubblico. Negli anni passati siamo anche riusciti a riunire i ragazzi in una piccola formazione giovanile che ha riscorso applausi non solo qui in paese ma anche nei paesi dei dittori come Montemagno e Guagnento. Finalmente l'anno scorso gli allievi del corso avanzato sono entrati ufficialmente a pieno titolo nell'organico della nostra banda musicale facendo la loro prima apparizione all'inizio del 2018 al Carnevale dei Fugine e di lì hanno continuato a seguirci nelle nostre uscite portando nuova linfa vitale alla nostra associazione. Un ringraziamento particolare alla Fondazione Robotti e al professor Gianluigi Ferraris che ci sostiene finanziariamente e all'amministrazione comunale che ci mette a disposizione questo locale e altro. Ma non ci siamo fermati lì. Come avete visto nella prima parte del saggio quest'anno si sono aggiunti quattro giovanissimi nuovi allievi che hanno iniziato a seguire le lezioni di Propedeuca musicale iniziando a sviluppare il senso del ritmo e la memoria sorora ed apprendere l'alfabeto musicale costituito dalle prime note musicali. Inoltre stasera avrete potuto anche ascoltare l'esibizione dei loro tre compagni un po' più grande del corso intermedio che hanno fatto il loro primissimo esordio in pubblico suonando il loro strumento musicale. Invito chi volesse iscriversi o iscrivere i propri figli al prossimo anno e al nostro corso di musica di non esitare a farsi avanti. Le iscrizioni sono sempre aperte. Come avete notato al saggio di quest'anno abbiamo pensato di introdurre un'importante novità la presenza dell'intera banda, della nostra banda che sta accompagnando dal vivo tutte esibizioni di musica di insieme degli allievi proprio per essere presenti in prima persona a supportare il più possibile i nostri ragazzi. E sarà proprio la banda a chiudere questa serata con un piccolo concerto in cui gli allievi del corso avanzato si metteranno in evidenza suonando le melodie principali dei vari arraggiamenti bandistici. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto nell'ultima parte del saggio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.